Il più cordiale e ben ritrovati, nuova edizione del nostro TGA, il telegiornale d'Abruzzo di Vera TV, in apertura, siccità, sprechi e assenza di piogge fanno sprofondare l'Abruzzo in piena crisi idrica. La consigliera Sara Marcozzi e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri puntano il dito contro una eccessiva frammentazione della gestione delle risorse idriche che dà adito a inutili campanilismi. Ci dice tutto Jessica Balestra. Siamo alle solite, l'Abruzzo è in piena emergenza idrica. Serve una risposta unanime della politica per dar soluzioni immediate ad un problema diventato stringente dopo che migliaia di cittadini sono stati lasciati completamente a secco d'acqua nelle ore serali. Lo chiedono a gran voce la consigliera regionale Sara Marcozzi e il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che invocano l'istituzione di una commissione consigliare permanente dedicata esclusivamente al sistema idrico. La proposta, presentata già ad aprile dello scorso anno, è in attesa di essere votata. Ai problemi annosi legati alla carenza d'acqua si aggiungono nelle ultime settimane l'assenza di precipitazioni e il gran caldo che ha fatto da nord a sud della regione schizzare la colonnina di mercurio oltre le temperature medie stagionali. Nel 2022 la siccità aveva già causato danni ingenti all'agricoltura, calcolati in 160 milioni di euro a fronte dei 6 miliardi, dato nazionale. A rischio non solo le produzioni agroalimentari, industriali e l'approvvigionamento della popolazione. Le dighe semivuote, ha spiegato il ministro Nello Musumeci, compromettono l'erogazione di energia, che per il 20% è idroelettrica. Ecco allora la ricetta di Marcozzi e Sospiri. Lasciare la gestione idrica in mano a tante piccole società di gestione non è la risposta all'emergenza in questo momento storico, dicono in coro. Occorre piuttosto drenare risorse, evitare inutili dispersioni burocratiche e guardare al problema con visione sistemica, intervenendo tempestivamente. Ma bisogna agire, hic et nunc, ora e subito, prima che sia troppo tardi. E ora la cronaca. Un uomo di 76 anni è morto folgorato mentre si trovava nei pressi di una piccola rimessa di sua proprietà e stava maneggiando un cavo di prolunga elettrica collegata a un contatore di corrente. L'incidente è avvenuto in serata in località Cologna Spiaggia di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Il personale sanitario del 118 di Giulia 9, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, nonostante i prolungati tentativi di rianimarlo. I vigili del fuoco del comando di Teramo hanno provveduto a mettere in sicurezza l'impianto elettrico. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato di Atri, che in collaborazione con la Polizia scientifica ha eseguito gli accertamenti di competenza. E siamo a Roseto, rientra dalle vacanze e trova due ladre in casa. Gloria Caglioni. Brutta sorpresa per un cittadino di Roseto al suo ritorno a casa dopo le vacanze. L'uomo si è trovato di fronte a una scena inaspettata. Due ladre erano all'interno della sua abitazione in via Genzano. La situazione è degenerata rapidamente, sfociando in una violenta colluttazione. Le due donne, colte e in flagrante, non hanno esitato a aggredire il proprietario, cercando di resistere al loro arresto. Nonostante la difficoltà della situazione, l'uomo ha avuto la prontezza di allertare immediatamente i carabinieri. Per fortuna una gazzella dei militari era di passaggio nelle vicinanze ed è potuta intervenire tempestivamente. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno fermato una delle due ladre sul posto, ma la seconda è riuscita a fuggire. L'episodio ha creato grande sconcerto tra i residenti del quartiere e ha messo in luce l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per contrastare la criminalità. La prontezza e l'efficienza dei carabinieri sono state decisive per impedire che la situazione degenerasse. Si tratta di un monito a tutti i cittadini affinché siano sempre vigili e attenti, soprattutto al rientro dalle vacanze o da lunghe assenze, quando le abitazioni possono essere più vulnerabili. È fondamentale adottare misure di sicurezza adeguate e segnalare prontamente qualsiasi comportamento sospetto alle forze dell'ordine. L'episodio dimostra anche l'importanza dei controlli e delle pattuglie sul territorio che possono fare la differenza nella lotta contro la criminalità. Ora la caccia alla seconda ladre è ancora aperta e si spera che possa essere individuata al più presto. Ci trasferiamo a Montesilvano. Tanto spavento e una tragedia sfiorata. Un bambino di appena 4 anni ha rischiato di annegare in mare mentre faceva il bagno. Il piccolo, che fa parte di una colonia di bimbi dai 4 agli 8 anni, era da poco entrato in acqua quando si è trovato in difficoltà. A trascinarlo arriva. Privo di sensi sarebbe stato uno degli educatori mentre a terra il bagnino della compagnia del mare Lifeguard gli ha praticato un massaggio cardiaco che ha consentito al piccolo di espellere l'acqua ingerita e di riprendersi poco a poco. Sul posto hanno fornito un aiuto anche un medico, un'infermiera. Nel frattempo è stato richiesto l'intervento dei soccorritori del 118 che l'hanno trasportato all'ospedale di Pescara dove il bimbo è attualmente ricoverato. Del caso si stanno occupando i militari della Guardia Costiera con il coordinamento dell'autorità giudiziaria. Non escluso che possa essersi trattato di un malore. Doppio furto con spaccata, poi fugge sanguinante. Arrestato dalla polizia è successo a Pescara. Ha lasciato tracce di sangue dopo aver spaccato le vetrine di due esercizi commerciali. È durata poco la fuga del ladro che la scorsa notte si è introdotto in due locali nel parco Villa dei Riseis e nelle sue vicinanze a Pescara. La polizia ha arrestato un giovane per il reato di furto aggravato per il doppio colpo messo a segno la scorsa notte. Nello specifico, verso le 2.30, la sala operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione che riferiva di un giovane che all'interno del parco stava cercando di sfondare una vetrina. La volante, arrivata immediatamente sul posto, ha constatato in effetti il danneggiamento di una vetrata e ha rinvenuto un mattone utilizzato per la spaccata, senza però trovare l'autore del fatto. Pochi minuti dopo, un'altra chiamata al 113 ha segnalato la presenza di un ragazzo che nelle vicinanze stava colpendo un'altra vetrina con le stesse modalità utilizzate all'interno di Parco dei Riseis. Il ladro, disturbato dalle urla del cittadino autore della segnalazione, è uscito di corsa dal locale e a bordo di una bici pieghevole si è allontanato dalla zona dirigendosi verso il centro della città. Gli agenti, giunti sul posto in pochi istanti, hanno rilevato inoltre tracce di sangue recente sulla vetrina di quest'ultimo esercizio e sul manto stradale. Macchie ematiche, presumibilmente riconducibili all'autore del furto. Si sono così posti alla ricerca del malvivente e poco distante hanno notato un giovane a bordo di una bicicletta compatibile con quella descritta, ben conosciuto inoltre dagli operatori di volante per i suoi numerosi precedenti specifici compiuti nel passato in città. Il giovane ladro è stato arrestato. Sui licenziamenti collettivi alla San Marco Industrial SRL di Atese, in provincia di Chieti, il giudice del lavoro del Tribunale di Lanciano Cristina Di Stefano ha accolto i ricorsi presentati dalla FIM CISL Abruzzo Molise per 10 di suoi iscritti e ha annullato e dichiarato illegittimi i licenziamenti fatti nel marzo 2022 dalla San Marco. L'azienda è stata inoltre condannata a reintegrare i lavoratori nel posto di lavoro con corresponsione di un indennizio economico pari da 12 a 20 mensilità nonché all'avversamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione con condanna alle spese di giudizio. Lo scorso anno la FIM CISL aveva fortemente contestato la legittimità dei licenziamenti. In totale furono 50 e le procedure adottate dalla società non tutti i licenziati in ogni caso hanno fatto ricorso al Tribunale. E siamo allo sport, al caccio di eccellenza un altro colpo di mercato per il Teramo 1913 lo scopriamo nel servizio di Giussi Cingoli. Da ieri il città di Teramo 1913 ha dato il via alle operazioni di ritiro precampionato con teste fisici e atletici al campo Bigliocelli di Montorio e è iniziato dunque il lavoro introduttivo del gruppo Biancorosso in vista della prossima stagione. Il 24 luglio si inizierà la parte tecnica sul campo agli ordini del riconfermato Marco Pomante. Sul fronte mercato, dopo i colpi in attacco di Dos Santos e Ture è stato ufficializzato anche l'arrivo del centrocampista Domenico Massarotti classe 2002, ex notaresco e nella scorsa stagione a Tolentino. Il Teramo insegue sempre la pista Emili dal Pineto Il giocatore ci sta pensando e non è escluso che possa accettare Teramo. Era presente alla conferenza dell'arrivo di Dos Santos anche il suo procuratore Cristian Carpineta. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Non c'è mai stata tanta difficoltà nella trattativa, chiariamo questo. È naturale, le difficoltà forse venivano più dalla vita, dal vissuto di Dos Santos perché due bambini, una moglie, dover collocare la famiglia. Quindi le scelte delle squadre che noi facciamo poi di anno in anno contemplano un po' più queste di problematiche. Del Teramo non abbiamo mai avuto dubbi. Sono state programmate anche alcune amichevoli in vista del prossimo campionato. Il 26 luglio contro la Juniores del Torricella Sicura a Montorio Alvomano, il 29 luglio contro Stel San Vito a Montorio, il 1 agosto contro la Virtus Francavilla, sempre a Montorio, il 5 agosto al Pigliacelli e il 9 agosto contro l'Avezzano, con sede ancora da definirsi. È tutto, mi fermo qui. Grazie per averci scelto. Vi auguro buon proseguimento con i programmi della nostra rete.